Il difensore francese è l'undicesimo acquisto dell'estate nerazzurra. Sarà legato al club fino al 2028 con un contratto da 5 milioni netti a stagione Il Sorriso sulle labbra e primo ciao ai nerazzurri. Benjamin Pavard è stato accolto da una folla tifosi interisti. All'esterno del CONI, dove sta completando l'iter delle visite mediche. Iniziate in mattinata All Humanitas di Rozzano. Dopo a pranzo il francese si recherà in sede per firmare contratto quinquennale da 5 milioni euro netti a stagione. Valido quindi fino a giugno 2028. L'iter successivamente. Il nazionale francese varcherà le porte di Appiano Gentile per il suo primo allenamento in solitaria. Visto che i compagni questa mattina hanno lavorato con Simone Inzaghi. Solo da domani. Quindi. Sarà stabilmente in gruppo. L'Inter completa così l'undicesimo acquisto dell'estate. Dopo il lungo tira e molla con il Bayern Monaco. Operazione da 30 milioni più 2 di bonus. Che fa del campione del mondo l'acquisto più costoso della Serie A. Almeno per il momento. Inzaghi ha il suo difensore tanto richiesto. Che scambierà con Darmian come braccio destro. Anche se. All'occorrenza. Il francese potrà agire da esterno largo o da perno centrale. In una parola flessibilità. Caratteristica che Inzaghi ha sempre apprezzato per i suoi giocatori.